Agevolazioni fiscali per chi trasferisce la propria residenza o insedia la propria attività nel centro storico di città Sant'Angelo e a Villa Cipressi. Si chiama Centriamo. L'iniziativa promossa dal comune angolano contro lo spopolamento lo dice il termine stesso della parte storica di uno dei borghi più belli d'Italia ed è stata presentata questa mattina a Pescara. Per i nuovi residenti abbiamo un abbattimento della Tari per 5 anni o per il periodo in cui rimangono residenti del 50%. Per le nuove attività che scelgono di insediarsi a città Sant'Angelo abbiamo previsto delle agevolazioni sempre sulla Tari standard del 50% però queste agevolazioni, questo abbattimento arriva al 90% per determinati tipi di attività perché nel centro storico puntiamo a recuperare delle attività che mancano a livello di servizi. Strutture ricettive B&B, laboratori sartoriali, laboratori di calzature avranno i loro vantaggi ma città Sant'Angelo potrebbe essere anche la location ideale per una galleria d'arte. Trasforma il tuo immobile non abitativo in un luogo d'arte. Sei proprietario di un immobile non abitativo? Se lo affitti o lo cedi in uso gratuito o lo utilizzi direttamente per un laboratorio d'arte o un'esposizione artistica, IMU è ridotta del 90% per 5 anni. L'agevolazione oltre che sul piano fiscale viaggia anche sul piano della semplificazione urbanistica sull'abbattimento degli oneri concessori perché facilitiamo la trasformazione dei tanti fondaci presenti nel centro storico in unità commerciali. Hai un fondaco da trasformare in negozio? Trasforma il tuo fondaco magazzino in un negozio. Il comune ti viene incontro azzerando i costi e gli oneri urbanistici di trasformazione e la richiesta avrà un percorso temporalmente agevolato all'interno degli uffici comunali che dovranno valutarla. Dobbiamo dire che dal 2019 al 2023 i residenti all'interno del centro storico sono cresciuti ma vogliamo aumentare per riuscire a dare una rigenerazione proprio urbana intera al nostro centro storico. Una rigenerazione che passa anche per delle opere urbane che noi stiamo ponendo in essere con degli interventi atti a valorizzare quelli che sono degli scorci importanti del nostro centro storico per cercare di renderla più fruibile, per cercare di renderla più adatta anche alla visione dei turisti. Tutte le info sono disponibili sul sito del comune di Città Sant'Angelo al numero 085 96 96 275.